ciao amiche ed amici di youtube ben trovati a questa puntata speciale del cielo della settimana in cui parliamo di una delle lune piene più interessanti di quest'anno appena iniziato la luna piena in leone in aspetto con urano che si formerà domenica 5 febbraio nei nostri cieli che peraltro è il mio compleanno quindi è una luna piena che sento particolarmente forte prima di entrare nel vivo le solite raccomandazioni iscrivetevi al canale che sarà sempre più grande e più bello se volete leggere l'oroscopo della settimana in corso lo trovate nel box qui sotto e se volete sapere tutto su questo 2023 in cui saltano i tappi l'anno delle grandi rivoluzioni trovate tutto nel nostro libro oroscopo 2023 il giro dell'anno in 12 tappe anche qui se lo volete acquistare c'è il link qui sotto nel box allora se siamo pronti partiamo allora io direi di entrare a bomba nei temi della serata perché abbiamo stasera una luna piena di cui parlare che è una delle più interessanti e delle più importanti di quest'anno parlo della luna piena in leone che si forma sabato che si forma tra sabato 4 ma soprattutto domenica 5 febbraio per cui parliamo della fine di questa settimana parliamo delle giornate del weekend parliamo di qualcosa che comincia a montare sabato 4 e che è ancora più forte più evidente domenica 5 febbraio allora parliamo del fatto che è una delle lune piene più importanti di quest'anno innanzitutto perché la luna piena è sempre un momento di rivelazione è la fase culminante del ciclo lunare quindi è un momento in cui le cose sono più chiare in cui ci arrivano dirette senza mezzi termini senza i fil senza filtri è un momento in cui abbiamo solitamente una maggiore chiarezza di idee e in cui spesso accadono le cose proprio perché la fase culminante di qualcosa che prima si andava preparando piano piano in questo caso è l'epilogo è il culmine della luna nuova del 21 di gennaio di cui abbiamo parlato alla quale ho dedicato un video alla quale ho dedicato un approfondimento scritto ed è in qualche modo importante anche andarlo a recuperare perché la luna nuova del 21 di gennaio e la luna piena del 5 di febbraio sono un po come i due bracci della stessa bilancia hanno a che fare con la stessa sostanza e vanno lette in maniera combinata perché è così importante perché il 2023 è un anno l'abbiamo detto più e più volte in cui saltano i tappi è un anno di rivoluzione un po per tutti i segni è un anno in cui se ci sono delle situazioni che ci hanno fatto sentire in passato con le mani legate che ci vanno strette delle scelte che non abbiamo fatto per paura di deludere le aspettative degli altri per paura di pentircene di rinunciare a qualcosa di cui avevamo bisogno questo 2023 ci dà una spinta per liberarcene e in questo è assolutamente costruttivo qui stiamo parlando di un ciclo di lunazione che avviene all'interno nel cuore dell'inverno e l'inverno è una stagione molto importante perché è la stagione apparentemente spenta apparentemente disattivata ma che rappresenta la premessa per ciò che comincerà in primavera in inverno apparentemente si muove poco ma sotto si forma il seme da cui poi partirà la rinascita in primavera è il momento in cui si forma il progetto iniziale primigenio che poi in primavera porterà iniziative situazioni concrete situazioni che siano più palesi perché questa luna nuova del 21 gennaio e questa luna piena del 5 febbraio sono così importanti perché pongono le premesse di una rivoluzione che tra marzo e la fine della primavera potrà toccare un po' tutti i segni e porterà molti tappi a saltare per cui è qui che si formano i propositi è qui che si formano i progetti è qui che certe situazioni cominciano ad andarci strette cominciano a suscitare in noi fastidio in sofferenza che ci spingono a guardare in direzioni diverse ed è esattamente da questa ciclo di lunazione che si tracciano delle nuove strade per cui è molto importante proprio perché in molti casi è esattamente questo il progetto l'idea il proposito l'aspirazione il momento di ribellione che porterà poi ad una primavera un po di grandi cambiamenti per tutti i segni e quindi immaginatevi che con la luna nuova del 21 gennaio certe situazioni abbiano cominciato a muoversi dentro di noi e con la luna piena del 5 febbraio ci appaiono più chiare e quindi ci dicano ok è questo che voglio ed è questo che non voglio più è questa la direzione in cui mi voglio indirizzare ed è questa invece la situazione alla quale non sento più di appartenere per cui considerando che la luna piena è un momento di massima chiarezza e che parla a livello emotivo perché parla con la lingua delle emozioni prestiamo grande attenzione agli stati d'animo che ci possono arrivare tra sabato 4 e domenica 5 perché la luna ci parla attraverso le emozioni e quindi se qualcosa ci chiama ci emoziona ci sembra giusta se è qualcosa sulla quale vogliamo investire anche se ci sono delle difficoltà sulla quale ci sembra giusto andare dritti per la nostra strada probabilmente è qualcosa che ha a che fare con un processo di cambiamento che poi in primavera vedremo più chiaro al contrario se una situazione mi fa imbestialire se mi respinge se è qualcosa che mi fa andare fuori di testa probabilmente è qualcosa dalla quale è bene che io cominci piano piano a prendere le distanze parliamo di una primavera dove qualcuno essendo una primavera così importante con plutone che entra in acquario e che quindi in qualche modo da un momento di verità a tutti i segni è un momento in cui qualcuno potrebbe veramente decidere apparentemente all'improvviso di lasciare un lavoro di chiudere una storia di cambiare città di cambiare stile di vita di cambiare interessi di lasciare una situazione garantita e rimettersi in gioco non è a sorpresa a sorpresa è per chi sta attorno che è abituato a guardare una vecchia immagine ma dentro di noi è l'epilogo di qualcosa che è partito prima e che prima ha lavorato sotto traccia quel prima è esattamente ora questo ciclo di lunazione di febbraio tra fine gennaio e febbraio che in qualche modo pone le basi per questo cambiamento accende la miccia di una rivoluzione comincia ad allentare un tappo che salterà in primavera quindi già questo la inquadra in una maniera estremamente estremamente importante come state notando sto parlando a segni unificati poi più avanti farò anche dei decenni in relazione ai vari segni però non lo faccio volutamente proprio per evitare che presi dall'ansia di qual è il mio segno uno possa perdere di vista quelli che sono invece i tratti essenziali di questa luna piena quindi torniamo con la mente al 21 di gennaio a cosa ci si è acceso su una scala più larga torniamo con la mente allo scorso 28 di luglio perché si è formata lì la luna nuova in leone di cui questa rappresenta un po l'epilogo sei mesi fa e 14 giorni fa circa potrebbero essere essersi cominciate a muovere delle istanze di cambiamento che adesso si mostrano con maggiore chiarezza andiamo avanti ancora di un passo la luna nuova è una opposizione tra il sole che si trova in un segno e la luna che si trova nel segno opposto e questi due segni ci raccontano molto sul suo messaggio in questo caso si forma da un'opposizione tra il sole in acquario e la luna in leone questi due segni acquario e leone hanno molto a che fare con i temi di cui parliamo e consideriamo che il timoniere di questa luna luna piena è il sole in acquario l'acquario è il segno del cambiamento è il segno del pensiero anticonformista controcorrente del fatto di dire non voglio stare sotto padrone voglio decidere per me è il segno della ribellione in certi casi del progresso del fatto di guardare avanti del fatto anche se vogliamo un po di fregarsene del parere altrui e in questa costellazione planetaria che stiamo considerando è l'aspetto più dirompente se vogliamo è l'aspetto più innovativo è il fatto di dire certe situazioni mi hanno stancato e quindi comincio a pensare in maniera differente dall'altra parte però c'è la luna in leone e il leone invece ha un segno completamente differente il segno opposto quindi è un segno di fuoco governato dal sole il sole è il centro del sistema il leone ha molto a che fare con il ruolo con la posizione che rivesto con l'importanza che ho per gli altri per il fatto di diventare punto di riferimento per gli altri il primo aspetto di questa luna piena è proprio una sorta di dilemma interiore tra il fatto di voler cambiare strada sole in acquario e il timore che questo cambiamento che questa rivoluzione che questo coming out chiamiamo in termini simbolici chiamiamolo come vogliamo possa non essere compreso dagli altri possa deludere le loro aspettative possa togliere un punto di riferimento per cui pensateci bene da un lato c'è il desiderio di prendere e capovolgere certe situazioni dall'altra c'è il timore di non essere capiti di non essere apprezzati di rinunciare ad una posizione già costruita di rinunciare ad alcune certezze e questi sono i primi termini del problema ogni luna piena per il solo fatto di nascere da un'opposizione tra il sole e la luna apre dentro di noi un dilemma un tiro la fune un qualcosa che ti dice a ma ti dice anche z ti dice alfa ma anche omega ti porta a guardare i due termini di una questione in questo caso fedeltà al proprio ruolo contro liberazione innovazione cambiamento rivoluzione e ti spinge proprio a prendere una posizione proprio è un dilemma che serve a capire per me in questo momento cos'è più importante in tutto ciò poi questa è una luna piena che nasce da un'opposizione tra il sole al quindicesimo grado dell'acquario e la luna al quindicesimo grado del leone che scaricano perfettamente su urano al quindicesimo grado del toro formano un triangolo perfetto laddove urano diventa il punto di scarico di questa luna piena e urano è il pianeta dell'imprevisto è il pianeta delle sorprese delle situazioni che prendono una piega diversa dalle aspettative e anche questo è molto molto importante innanzitutto urano in toro dal 2018 è un po' un controsenso perché il pianeta più ribelle più elettrico più imprevedibile di tutti in un segno che invece ama le certezze e i punti fermi questo che cosa significa significa che alcuni vecchi schemi alcuni vecchi copioni alcune situazioni che hanno funzionato bene in passato non è detto che funzionino ancora o che vadano ancora bene o che rispecchino ancora ciò che desideriamo fare luna piena in leone che scarica su urano crea innanzitutto un desiderio di rompere certi vecchi schemi una sensazione che ci vadano sempre più stretti una serie di situazioni impreviste che possono aprire delle nuove strade e possono cambiare più e più volte faccia per cui leggo una cosa che mi fa venire in mente un'idea comincio a pensare che la mia vita potrebbe andare in maniera diversa approfondisco ciò che ho letto scopro che non corrisponde a verità ma a sua volta mi apre degli altri scenari insomma è una slavina di cambiamento che piano piano si comincia a muovere in maniera certe volte anche imprevedibile o incostante e già questo in qualche modo ce la mette in una contesto che non ci vede comodamente seduti su ciò che siamo stati finora questo naturalmente riguarda chi sente il desiderio di un cambiamento cioè chi sta nella vita che lo rappresenta fino in fondo ovviamente questa luna piena gli scivola addosso e neanche la sente ma siccome ognuno di noi ha uno sfasamento più o meno marcato rispetto a ciò che vorrebbe essere rispetto all'immagine di sé che vorrebbe emanare all'esterno rispetto a ciò che sente di meritare sul lavoro rispetto alla valorizzazione rispetto a dove vive a dove vorrebbe andare a vivere rispetto a certe dinamiche di famiglia in tutti questi casi in cui c'è una divergenza più o meno marcata questa luna piena che dice ok cerchiamo di riaggiustare le cose cerchiamo di non subire ma di agire per un cambiamento ed è questo proprio il tema di fondo cioè nel 2023 certi tappi saltano proprio perché certe situazioni che abbiamo subito cominciamo a rimaneggiarle e a reagire per aggiustarle e questa luna piena è proprio diciamo un rullo di tamburi importante in questa direzione qua allora come al solito quando parliamo delle lune piene andiamo a guardare i gradi i simboli sabbiani associati ai gradi in cui avviene l'opposizione in questo caso il sedicesimo grado dell'acquario che è proprio il mio perché io sono nato il 5 febbraio quindi questa è una luna piena che mi tiene a battesimo nel giorno del compleanno il sedicesimo grado del leone all'opposto e troviamo quelli che sono i simboli associati i simboli sabbiani sono interessantissimi perché sono 360 immagini elaborate un centinaio d'anni fa intorno agli anni venti del novecento da un grande astrologo da mark edmund white e da una sensitiva che ha tirato fuori per ogni grado dello zodiaco un'immagine e andiamo a guardare quelle che sono le immagini associate al sedicesimo grado dell'acquario e al sedicesimo grado del leone al sedicesimo grado dell'acquario troviamo un'immagine che è molto inconsueta per un segno ribelle e anticonformista come l'acquario perché troviamo un cane da guardia che fa la guardia proteggendo il suo padrone e i suoi beni che è un simbolo che evoca subito protezione per cui fare la guardia ad un sistema impedire che venga messo a repentaglio che possa essere scombinato per cui è un simbolo che fa molto pensare ad un desiderio di trattenere di mantenere di non cambiare anzi addirittura di proteggere qualcosa da chi cerca di metterla a repentaglio e questo mi fa pensare che in questo momento prima di arrivo di andare oltre certe situazioni ci vedano scontenti a livello interno ma per una situazione di confusione o per una situazione di difficoltà di cambiarle ci vedano proteggerle all'esterno come dire che qualcuno ti dice questa vita non fa più al caso tuo e tu al contrario dici no ma tu sei pazzo mi ci trovo benissimo esattamente ciò che desidero laddove invece dentro sotto sotto non ti corrisponde più ma siccome non sai come smontarla la difendi questo mi fa pensare proprio a questo cane da guardia che fa la guardia proteggendo il suo padrone i suoi beni tra l'altro il suo padrone e i beni del padrone mi fa pensare anche ad una situazione di soggezione rispetto a qualcosa che non sai come modificare dall'altra parte dello zodiaco al sedicesimo grado del leone c'è un simbolo che almeno apparentemente è antitetico ed è molto denso perché dice un coro di volontari in chiesa fa delle prove per un evento sociale allora intanto nei simboli sabbiani ogni parola ha un suo senso e quindi qua abbiamo un coro di volontari partiamo dal volontari per cui qualcuno che fa qualcosa senza un obiettivo ben chiaro senza una mira personale ma per qualcosa che ha a che fare con un interesse più alto comunque lo fa in maniera disinteressata in maniera disincantata fa delle prove per un evento sociale e quindi sperimenta e quindi crea le condizioni per avere una maggiore certezza per andare sul palco e cantare nella mia maniera migliore possibile fa anche delle sperimentazioni per capire come le varie voci del coro si mescolino meglio per cui attraverso tentativi che non è detto che siano giusti al primo colpo ma che permettano di capire qual è la strada migliore e poi anche il coro che è comunque un'espressione di collettivo è un'espressione di nessuno che fa la solo ma di alcune voci che cantano insieme e allora mi viene da pensare prima cosa questa luna dice certe situazioni se cerchi di ribaltarle dall'oggi al domani inevitabilmente ti mettono paura inevitabilmente ti mettono con le spalle al muro e portano addirittura il paradosso di frenare il cambiamento e proteggerle pur di non per il fatto di non sapere in che maniera riaggiustarle dall'altra parte come devi fare con il coro per cui cercando le voci giuste con le quali fare un pezzo di strada cercando persone che vogliano le tue stesse cose cercando di condividere di non sentirti solo in questo facendo le prove con il coro e quindi cercando la strada giusta che non è detto che sia la prima che appaia o comunque andando avanti insistendo sperimentando mettendosi in discussione continuamente in maniera disinteressata cioè è questo che significa significa che tentare significa provare cioè se qualcosa non posso dire se quella strada non è quella giusta non mi muovo perché rischierò di non muovermi mai e di finire a fare la guardia come il cane e questo è un po lo schema per cui in questo momento un po tutti e 12 segni ma soprattutto i segni fissi il toro il leone lo scorpione l'acquario sono in una situazione dove vorrebbero stravolgere tutto ma non sapendo come fare finiscono per diventare dei guardiani come il cane di una situazione che non vogliono più rispetto all'esterno e a tutte le situazioni che spingono a cambiare è un discorso abbastanza delicato ma è esattamente la base di questo 2023 però a un certo punto essendo una luna piena che scarica su urano al quindicesimo grado del toro io mi sono andato a guardare anche il grado il simbolo associato al quindicesimo grado del toro che è un po l'ago della bilancia che è un po lo scarico di questa situazione e ci ho trovato forse la chiave di soluzione del dilemma ed è una persona anziana sta tentando con un grado di successo inaspettato di rivelare i misteri a un gruppo eterogeneo lo ripeto che è interessante una persona anziana sta tentando con un grado di successo inaspettato di rivelare i misteri ad un gruppo eterogeneo allora intanto la persona anziana mi fa pensare subito ad un vecchio sistema ad un copione comportamentale ormai rodato a qualcosa che in qualche modo ha fatto ha dato prova di funzionare ma che evidentemente è un po adesso de mode non rappresenta più ciò che desideriamo la persona anziana con un grado di successo inaspettato per cui non aspettandosi neanche di riuscire riesce a rivelare i misteri e quindi a tirar fuori quello che ha dentro per cui pensate che schema interessante da una parte il cane da guardia che fa la guardia ad una situazione guai a chi me la tocca laddove invece magari sotto sotto neanche mi piace più tanto dall'altra parte il coro cioè il singolo si è trasformato nel plurimo il fatto di cercare le giuste collaborazioni di cercare delle strade che coinvolgano anche degli altri di non pensare di poter fare tutto da soli o di dover fare tutto da soli quante iniziative di cambiamento ce le carichiamo sulle spalle come se fossero il fardello di un viandante laddove invece riguardano anche altre persone e pensiamo di doverle e poterle gestire da soli e che comunque sperimenta si butta prova non è ancora l'evento sociale è il coro che prova per esibirsi al meglio nell'evento sociale e dall'altra parte la persona anziana che neanche si aspetta di riuscire con tanto successo a tirar fuori quello che ha dentro dinanzi ad un gruppo di persone insomma è un è una terna che parla di movimento una terna che parla di cambiamento fin qui non ne ho parlato concentrandomi sui segni proprio per non levarvi comunque questo tema di fondo che ci riguarda tutti soprattutto lo ripeto ancora una volta in un anno come il 2023 che ha un'idea una forma assolutamente chiara cioè è un anno di coming out è un anno in cui ognuno di noi a dispetto del proprio pubblico che può essere un grande pubblico o un piccolo pubblico è portato a dire io sono questo che vi piaccia o no se l'immagine che avete di me negli occhi non corrisponde più all'immagine che io stesso voglio dare è arrivato il momento di tirar fuori quello che ho dentro e anche di cambiare cambiar pelle per cui far saltare i tappi per cui dire certi no per cui prendere nuove strade quello che vi pare comunque è arrivato il momento di di tirar fuori quello che ho dentro nell'ambito di questo schema questa lunazione d'inverno ha proprio a che fare con il formare il seme di ciò su cui lavoreremo a maggio quindi capirlo metterlo a fuoco trovare questa direzione è molto importante perché è esattamente il fil rouge che attraversa l'anno per cui tutto ciò che vi dovesse andare stretto tutto ciò che vi dovesse sembrare ormai vecchio tutto ciò che dovesse attivare una reazione comunque dissonante ha proprio senso perché rappresenta un moto da luogo da dove mi devo allontanare laddove tutto ciò che invece vi attrae stimola comunque una un'emozione positiva ha proprio il senso di chiamarvi e di attivare un processo adesso andiamo un attimino a guardare quali sono i temi segno per segno come al solito con i pleni luni ne parlo a coppie perché sono accostati e partiamo proprio dall'acquario e dal leone che sono i due segni che hanno questa luna piena esattamente nel loro cielo qui il senso ha proprio a che fare con l'immagine che voglio dare di me all'esterno ciò che gli altri riconoscono in me corrisponde o non corrisponde a ciò che io dentro sento di poter dare o di poter fare se corrisponde perfettamente questa luna piena può essere un momento di consagrazione può essere un riconoscimento può essere un salto di qualità se non corrisponde probabilmente questi due piani l'esterno e l'interno vanno allineati e in questo caso come si allineano non si allineano reprimendo cioè cambiando silenziando quello che ho dentro affinché aderisca a quello che gli altri si aspettano da me ma esprimendo e quindi tirando fuori quello che ho dentro e cercando di cambiare dal piccolo al grande ciò che appartiene alla mia vita i miei rapporti i progetti gli interessi il lavoro la città in cui sto la casa in cui sto in modo tale che piano piano a cascata comincino a somigliare a quello che ho dentro ed ecco che abbiamo un acquario che comincia a dire basta imbocco io la mia strada un leone che comincia ad allargare le sbarre di un ruolo che l'ha fatto sentire ingabbiato e che comunque cominciano a dire sono molto di più di quanto voi vedete in me posso fare altro posso fare altre cose non sono solamente quel ruolo non sono solamente quelle dinamiche ma posso fare di più e da qui in poi si semina una primavera in cui molti prenderanno delle strade differenti andiamo ancora avanti arriviamo al capricorno e al cancro in questo caso invece il tema di fondo è la valorizzazione quanto vengo valorizzato per ciò che faccio a partire dal concreto quanto vengo pagato sul lavoro che tipo di contratto che tipo di inquadramento rispecchia o non rispecchia la qualità di quello che faccio ad arrivare a qualcosa anche di più importante di più sottile di più profondo che ad esempio la valorizzazione che le persone mi danno il quanto il partner mi faccia sentire valorizzato oppure mi faccia sentire scontato quanto tutto ciò che ha attorno riconosca quello che io posso dare a livello di potenziale oppure no ed è una luna piena che porta anche a capire a livello proprio concreto se e come certi propositi di cambiamento si possano attuare o meno e quindi porta a fare dei preventivi porta a fare dei piani di fattibilità questo è ciò che voglio fare lo posso realizzare come devo fare in che tempi quanti soldi servono dove li trovo se ci sono dei soldi che mi devono restituire al momento di alzare la voce di farsi sentire di battere cassa per cui è una luna piena che ha molto a che fare con la valorizzazione e anche con la possibilità di cercare risorse tramite enti o esternamente quindi una luna piena che a qualcuno dà la spinta per chiedere un prestito per chiedere un mutuo per cercare di non fare tutto da solo ecco che torna il coro anche a livello finanziario andiamo avanti ancora e troviamo una coppia la coppia successiva che è quella di sagittario e gemelli qui il primo tema dire apertamente ciò che pensi e quindi tirar fuori la voce e quindi affrontare quei discorsi che non sono ancora stati affrontati dire chiaramente così la penso questo mi va bene questo non mi va bene laddove probabilmente negli ultimi tempi c'è stata la sensazione di avere il bavaglio il silenziatore o di non poter dire chiaramente ciò che pensavate di non prendere chiaramente posizione andando ancora a monte tutto questo richiede di capire esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi e quindi mettere sul tavolo tutta una serie di aspirazioni cosa sono disposto a fare per gli altri e cosa mi aspetto di ricevere in cambio fin dove sono disposto a spendermi o a spingermi in un rapporto o dove invece c'è un alto là quali sono i miei confini come fare per farli rispettare e questa è una luna piena che potrebbe portare molti sagittari e gemelli a dire e mo basta oltre questo confine non vai questi sono i miei principi non sono disposto a derogarli oltre questo aspetto questo sono disposto a dare in un rapporto e questo mi aspetto di ricevere in cambio o semplicemente prendere posizione su una questione laddove in questo momento il sagittario e gemelli stanno un po come il come un pugile suonato come un un ago della bilancia tra due piatti e fanno fatica a dire voglio questo non voglio quell'altro questa è una luna piena che tirerà fuori tutto questo gli darà la possibilità di esprimerlo anche diciamo importante proprio il fatto di prendere delle iniziative che hanno a che fare con la comunicazione dire io ti devo parlare apriamo un discorso chiedere risposte mandare in giro curriculum la la comunicazione è il fil rouge di questa luna piena andiamo ancora avanti e troviamo lo scorpione ed il toro allora questa è una luna di carriera delle nuove possibilità delle nuove prospettive e quindi la possibilità di crescere sul lavoro di fare qualcosa che finora non avete mai fatto di fare un gradino in più nella scala della crescita ma che a cascata potrebbero attivare accentuare delle dinamiche legate alla casa o alla famiglia banalmente mi offrono il contratto del secolo mi offrono una grande opportunità ma c'è bisogno di cambiare sede c'è bisogno di trasferirsi di viaggiare continuamente di fare su e giù per lavoro e allora che succede come la vivrà la famiglia devo riorganizzare certe dinamiche rimango attaccato alle mie radici oppure seguo una strada che va in una direzione differente ed è se ci fate caso proprio la l'antico tema del rapporto tra le fronde di un albero che sono fatte per andare più lontano possibile e le radici che invece inevitabilmente restano a terra c'è la possibilità ovviamente di trovare una quadra di riorganizzare le cose in maniera tale che funzionino però tra scorpione e toro aspettatevi che questa luna piena possa stimolare delle situazioni nuove che hanno a che fare con la crescita soprattutto sul lavoro e che in qualche modo vi mettono vi mettono di fronte la necessità di riformulare le radici riorganizzarle in maniera diversa a partire dalla casa a partire dalla famiglia e da tutto ciò che rappresenta un ancora comunque è proprio la possibilità di alzare le vele e andare più lontano andiamo ancora avanti e abbiamo la coppia bilancia e ariete qui il tema di fondo spero di riuscire a raccontarlo bene è il rapporto tra ciò che faccio per me e ciò che faccio perché se lo aspettano gli altri e quindi potremmo dire la creatività spontanea quella che mi sento nascere da dentro quella che faccio perché mi permette di svilupparmi al meglio come persona e perché mi permette di esprimere quello che ho dentro e quello che faccio perché le persone che ho attorno se lo aspettano da me e sono due aspetti di un tema che per la bilancia e per la riete è stato decisivo negli ultimi 15 anni e che nel 2023 ha un giro di boa assoluto perché la bilancia sono anni che manda davanti qualcun altro sono anni che sostiene l'altro sono anni che è sbilanciata sul partner sulla sua carriera su certe esigenze legate ai figli e genitori e mette sempre se stessa in secondo piano dall'altra parte la riete è più spumeggiante più scavezzacollo ma sotto sotto ci sono delle scelte che non ha fatto per paura di andare contro le aspettative della famiglia dell'ambiente circostante di dare troppo nell'occhio di azzardare di pentirsene in questa prospettiva questa luna piena da proprio una spinta per dire vai nella direzione che è la tua senza stare a ripiegarti su altri senza reiterare certe vecchie non scelte che in realtà non hai mai scelto liberamente ma che sono semplicemente un condizionamento anche qui si pongono le basi per una primavera in cui molti potrebbero arrivare a mettere un punto e a fare una scelta radicale e diversa sul lavoro sullo stile di vita in amore se c'è una relazione che ormai è palesemente stanca o comunque a prendere la propria direzione per cui è una luna piena estremamente importante gli ultimi due segni e abbiamo chiuso il ciclo sono la vergine e i pesci per i quali questa è una luna piena che gioca in un asse che è un po come una sorta di sala d'attesa come una sorta di anticamera prima che qualcosa di nuovo inizi e c'è una sensazione proprio di stare aver bisogno di chiudersi in sé di riflettere di entrare più in contatto con se stessi laddove invece esternamente il mondo va a mille all'ora quindi in questo momento potreste sentirvi un po tirati per la giacchetta potreste sentire l'urgenza di dare una risposta a qualcuno o di intervenire in una situazione laddove non siete ancora pronti potreste avere bisogno di chiedere del tempo di dire non mi incalzare perché in questo momento ho bisogno di mettere un po più a fuoco certe dinamiche andiamo verso un mese di una seconda metà di febbraio e un mese di marzo in cui probabilmente i pesci e la vergine arriveranno a dover prendere delle decisioni a dover fare delle scelte a dover capire dove vogliono stare in questo momento hanno bisogno probabilmente di mettere a fuoco certe dinamiche di prendere del tempo di capire anche internamente che cosa vogliono ed è una luna piena che probabilmente ha proprio il senso di un stop cioè se in questo momento mi stai chiedendo una risposta che non sono pronto a dare la risposta è non sono pronto a dartela se ho bisogno di capire meglio certe dinamiche di capire meglio che direzione deve prendere la mia vita mi faccio anche rispettare in questa questa situazione e cerco anche di capire meglio di chiarirmi le idee è una luna piena che può veramente portare anche a capire che direzione far prendere a certe cose laddove invece in questo momento probabilmente c'è una confusione generale e c'è un caos di fondo e chiudo se per caso avete il vostro tema di nascita andate a vedere dove cadono il sedicesimo grado dell'acquario e il sedicesimo grado del leone vi appariranno una coppia di case che vi possono indicare quali sono le aree della vita in cui in questo momento potreste sentire bisogno di fare questa rivoluzione se la luna piena vi cade tra la prima e la settima casa riascoltate quello che ho detto sull'acquario e sul leone se vi cade tra la seconda e l'ottava casa riascoltate quello che ho detto per il cancro e per il capricorno se vi cade tra la terza e la nona casa riascoltate quello che ho detto per il sagittario e per i gemelli perché i temi sono simili se vi cade tra la quarta e la decima casa riascoltate quello che ho detto per lo scorpione e per il toro perché i temi sono simili se vi cade tra la quinta e l'undicesima ritornate a quello che ho detto sulla riete e sulla bilancia e se vi cade tra la sesta e la dodicesima riascoltate quello che ho detto per la vergine e per i pesci chiaramente tutto questo poi uscirà scritto per cui insomma se vi siete persi qualche pezzo potete rileggere perché come dicevano come diceva quel proverbio cinese chi scrive legge due volte e chi legge in camera di più però comunque ci tenevo anche a darvi degli spunti su questa luna piena del 5 febbraio che personalmente ritengo uno dei momenti più importanti di questo setup del rodaggio di questo 2023 più ci entriamo con le idee chiare più cerchiamo di assimilare da questa luna piena più avremo una direzione chiara da seguire nel corso della primavera e più potremo cambiare positivamente certe situazioni tutto quello che ho detto vale anche per gli ascendenti per cui riascoltatelo anche in questa prospettiva e se avete delle questioni che riguardano la casa o la famiglia anche per il segno lunare allora abbiamo fatto una bellissima carrellata nei prossimi giorni al ridosso della luna piena uscirà anche la parte scritta di tutto questo però vi ridico ancora una volta ascoltatela andando a riguardare una serie di cose vi do i compiti primo andatevi a rileggere una galoppata nel 2023 i temi più importanti e andate a riguardare il video su youtube che si chiama un primo sguardo al nuovo anno perché lì ci sono i temi di fondo poi andate anche a riguardare tutto quello che ho scritto sul 2023 un film per segno e tutti gli scenari perché in realtà ogni volta bisognerebbe fare una specie di riassunto delle puntate precedenti perché tutto questo ha molto a che fare con i temi del nuovo anno e soprattutto andate a riguardare e a rileggere ciò che ho scritto sulla luna nuova del 21 di gennaio perché quella è il seme di qualcosa che oggi con questa luna piena vediamo in maniera più chiara e quindi vanno letti in qualche modo insieme io vi ringrazio per essere stati insieme non mi resta che augurarvi buona settimana e soprattutto buona luna piena il leone a tutti e darvi appuntamento la settimana prossima sempre qui su youtube grazie vi voglio bene